secondo di 52 e oggi siamo ritornati finalmente su autolust ragazzi ragazzino mi ha portato veramente autos per chissà quanto tempo spero che il video vi piaccia perché durerà un pochettino proprio per rimpiazzare tutti i giorni in cui l'ho saltato per mettere video di fornite che però ragazzi veramente sono impazzito per questo gioco ragazzi continuiamo perché l'ultima volta che ho giocato mi sono leggermente andati a puttare i salvataggi quindi adesso vedremo dove siamo arrivati addio dove cazzo siamo dai cosa che mi ricordo i tasti ragazzi che ammora aprile la mia lavora per far scorrere ah questa allora noi siamo qui credo una lavora si trova lì sotto e l'altra si trova a montra c'è un'arma su dettagli questi quindi adesso dobbiamo andare lì e poi lì sotto allora qui no raga neanche ho iniziato uuuu aiutaci ma tra la 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 perchè devi rompermi il cazzo neanche avessi iniziato se mi rompi cazzo no no spero che si ragazzi quella era la strada in cui dovevo andare io qui si rendendo dall'altra parte come si corre ok vai qui dove si c'è un'altra ok ragazzi ed è una adesso senza farci sgamare torniamo indietro no raga no oh cazzo se mi vede so cazzi amari ragazzi mi sto cacando il dosso dai vai vai cazzo vai vai porco due porco due ragazzi porco due vai 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 cerco di vita e di camminare sull'acqua ragazzi perché da quanto ho capito lui mi sente credo che se andiamo di qui arriviamo prima alla stanza e infatti ragazzi entra credo se andi qui e spero ok ragazzi si è qui guarda la seconda leva ok adesso torniamo indietro nooo ma perchè vai da quella parte non da questa che palla raga adesso notoriamente devo fare chissà quale cosa riusci a evitarlo ci sta due anni a camminare poi spicciati dai vai via guarda ragazzi non dobbiamo andare guarda ragazzi ho visto forse una batteria no ragazzi fortunatamente non può entrare qui ma non c'è mille pesa l'ansia dai cazzo spiegati guarda ragazzi non maıyor guarda rogt guardaYa guarda il ragazzi sono un cazzo di genio spero indio o che è un sospetto c'è strada c'è fatto spuntare qui perché normalmente non andava bene prima maglia cazzo è grande sta scala non siete un cazzo staventa ragazzi non si è detto se io non uso questo non metto completamente niente per capire come questi sono riusciti madonna tantissimo sono riusciti da giocare qui nelle fognature a farci con una scala che più che gradevole allora sono due opzioni o quando salgo mi spara un calcio in faccia con il rosso quanto la sua famiglia siste no 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 è stato ma la batteria ma se non l'altra parte non l'ho vista raga non si apre e normalmente io ho messo sempre il buio allora c'è un tizio che è sparito completamente allora non c'è niente c'è nì c'è nì c'è nì c'è nì c'è nì bello ferole world chiuso 2 tutto buio raga è tutto cazzo davanti è buio ma poi la batteria si trova una ogni 37 anni umore è bruttissimi cos'è stato non vuoi sapere 2 3 3 3 3 3 3 3 dove cacchio ci stiamo andando a entrare ma vabbè mi portate a riuscire a sopravvivere ditemi che non è chiuso vi prego ah no è un muro lui è chiuso una sedia mi sa che non è dovemmo andare lì ok bello se si diceva da qualcosa prima adesso tu pensi realmente che io scenda, c'ho delle urla che niente che satana manda così ragazzi mi sto a caricare la batteria perché se resto senza batteria ma in testo esplorando il posto solo non è la cacca cos'è? è una batteria tanto ragazzi la batteria quando usiamo il come si chiama si scarica subito qui possiamo saltare ok di nuovo bello bello sali subito vai 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 vieni qua palle raga se è la quarta volta che ho cato cosa mi dice che io devo bandare? porco due dove c'è la luce? no si raga c'è la luce e noi veniamo di qui se raga dove cazzo siamo? no raga c'è qualcuno c'è qualcuno raga non vedo una ceppa di minchia la batteria si sta scaricando e non l'abbiamo nel culo quindi raga raga no raga si sta girando oh oh raga mi sto stanno calendo i nervi tv l'ono torazzo la raga la guerra acquaardio ricom horsepower no casa Va bene ragazzi Questa gliela diamo buona Allora Se non è nei lati Dobbiamo andare sicuramente Dritto Ma se non andiamo dritto C'è quel bastardo lì Perché io so che Dove sicuramente c'è lui C'è qualcosa ragazzi Io lo so È sicuro come la morte Tutto chiuso No La fortuna Raga andai Possiamo Andai sui occhi Vai 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 Ti prego di me che si possa dire Vai raga vai vai Oh no 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 Vai 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 Amico io non tu Vuoi fare del male Però se mi tocchi Ti uccide il fratello Chiudi qui Allora Vai Oh cazzo 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 Ma è lesbico Ragazzi le persone non sono Normali qui Vai 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 Dobbiamo andare dove stava andando Voi la cosa non va più che bene Calmati amico Calmati di tutti Non voglio fare del male a nessuno No raga Io non ho qua Oh no Oh no Allora Questi suoni che ne sentiamo ogni tanto Mi stanno Madonna Allora ragazzi Oh Cazzo cazzo Ma Sì quindi mi stava fare un tavolaggio Ecco giusto Oh finalmente ragazzi siamo usciti Dobbiamo spostare sta cosa Tutta la via Entra Bello Questo era il tizio di prima Se non sbaglio Ciao Ragazzi qualcosa Mi dice che Come prima L'aveva detto quel tizio Che dobbiamo seguire Nel pronte del sangue Ragazzi non so perché Qualcosa mi dice che Io debba aprire questa porta E ne pentirò Ma io Devo aprirla Ragazzi Ragazzi non c'è più quel tizio di prima Noi andiamo di qua Che è chiuso Chiuso Tutto chiuso raga Ah ok Ok Dovevo dobbiamo andare Ragazzi E Magira Ucconocznie Niente Alek No, 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 calmo, calmo, calmo Chiudi cazzo, corri 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 Che merda raga Chiudi 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 Apriate dai 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 Nooo Nooo Entra Chiudi Vai cazzo vai Vai E qua? Vai 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 No 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 dove 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 Oh cazzo 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 vai 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 Merda Oh Fuck No raga basta Mi prego No 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 Cori, codi, codi, codi vai 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 Su catano, tutto Mi culo Stanno sponbeitet ragazzi Vai 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 Qualcuno mi sta aiutando ragazzi Dai cazzo entra Su catamelo Ragazzi qualcuno è buono e mi ha Cazzo Cacca merda Non era buono ragazzi Tu sei un leccacolo per questo Tu sei un leccacolo per questo Il teatro Ma sei un leccacolo per questo Quanto è sexy Usi come Yolton Martini lunch Nelio con Perchè la raga Perchè la raga Noi cariol Ehi che vuoi Insane Porco schifo Oh ragazzi, dove cazzo si è? Uh, uscita! Ma cazzo, spazzarti. Cazzo di merda, c'è ragazzi che viene uscita da avanti, pezzo di merda. Ragazzo, nella pagherina, una spuntatina con le unghie, soprattutto che bel culetto, ragazzi. Dai cazzo, stiamo andando. Ragazzi, segniamoci quel posto che potrebbe essere una futura uscita. Ragazzi, dove cazzo mi sta portando? Lì c'è qualcosa di rosso, ma non so cos'è. Ragazzi, cosa cazzo vuoi fare? Infatti, l'hai capito, finalmente. Libera di cazzo. Io sono un po' preoccupato di quanto tempo hai spento con il padre Martin. Sì, spero che non hai lasciato lui confusare te con tutto questo... ...olio di te che tu... Nooo, no, 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 no. Sì, è un po' preoccupato, ma non è un po' preoccupare. Non è un po' preoccupare, non è un po' preoccupare. Mi sento un po' preoccupare. È bellissimo, però non la voglio messa sulla mia pelle, allontanati subito. no cos'è quella cosa raga se la madonna no forse il coltello andava a me no 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 oh porca merda no no cazzo porca cacca mi ha leggermente staccato qualche vito o fa male capisco figlia mia staccate vai cazzo cerca di uscire da sto merda di schifo bravissimo no 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 che merda in quadro tomito bravissimo no ragazzi siamo liberati bene siamo nella merda ok raga spero che il video vi sia leggermente piaciuto perchè ragazzi non potete capire da quanto tempo stia giocando allora ragazzi il prossimo video lo farò tra qualche giorno e vi porto alla volta i video su fortnite spero che il video vi piaccia se avete piaciuto iscrivetevi al canale mettetevi a dare i like ci vediamo nel prossimo video bella raga ciao 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 ciao